Amici sportivi Un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu Nona giornata del campionato di Serie C2 Girone C La sfida alla Pala Rosselli tra lo United Aprilia e il Real Ciampino Arriva il fischio del direttore di gara Primi minuti intensi Pignatiello Musilli subito diagonale Musilli la respinta in corner di bianco Musilli Gestisce lui Palla dentro per Pignatiello Arriva Musilli Occasione ancora per lo United Palla fuori Sofia Dentro per Violanti Prova il gioco di gambe Violanti Risponde subito il Real Ciampino Cianfanelli Poi ancora un break Mattioni il destro Palla in rete Real in vantaggio Destro preciso di Mattioni 1-0 Ancora Mattioni Poi Cianfanelli Il sinistro La parata Da parte di bianco Break però di De Marco Pignatiello Dentro per la splendida combinazione dello United De Marco Musilli Poi il break Poi ancora Galieti Destro La respinta Pallone per Galieti Palla al volo Poi Musilli si mangia il pari E allora ancora United Bernoni La deviazione Poi c'è Galieti Mette in mezzo Aletto Vince un rimpallo Ancora lui Non c'è fallo E allora Pallone Che finisce il rete Il pareggio di De Marco Il pari dello United Musilli Palla dentro Pignatiello L'area è spinta Due volte di Itri Poi ancora lo United Pignatiello Scarica Musilli Destro fuori Cianfanelli Musilli Dentro E gol di Bernoni Avanti lo United Due a uno Musilli Bernoni Due a uno United Pallone dentro per Violanti Raddoppiato Allora Pignatiello Break dello United Musilli Pignatiello Miracolo di Bianco Gianluca Mattioni Autore della rete Del momentaneo vantaggio Della Real Mattioni Destro La gran parata di Masullo Che devia sulla traversa Cora targata Mattioni Lui ancora con il destro Occasione ancora Gallieti Intercetta la sfera Gallieti Palla per Pignatiello Grande occasione Anche per Pignatiello Che spreca Bernoni Bernoni Sinistro La respinta di Bianco La respinta di Bianco Poi ancora United Con Musilli Berdoni Palla sulla traversa I tri Mattioni E palla di rete Il pareggio Del Real 2 a 2 L'incontro L'incontro 2 a 2 Qui alla Palla Rosselli Tra United Aprilia E Real Ciampino Un saluto A tutti voi Da Fabrizio Agostini E da Gianfranco Marceddu E da Gianfranco E da Gianfranco E da Gianfranco